Ciao ragazzi, ciao ragazzi, allora oggi vi volevo far vedere un'offerta strepitosissima di Vero Rocher che dura però fino al 29 giugno, quindi dovete correre subito ad ordinare perché è veramente fantastica con 35 euro, ma pagherete solamente 32,50 perché comunque o per chi si vuole iscrivere o direttamente per chi vuole ordinare questo set perché gli piace e perché contiene tutto quello che gli serve vi faccio vedere innanzitutto il set cosa contiene, come vedete qua questo bellissimo beauty è incluso anche nel prezzo, è bellissimo, poi contiene un'acqua profumata spray al cocco un doposole, 3 in 1 200 ml, un bagno schiuma monoida 400 ml, che è doccia shampoo un olio scintillante, questo monoi, fantastico, e un gel per gambe, cioè per rinfrescare le gambe è utile da tenere in frigo in modo che l'effetto è più efficace, poi un mascara metamorphs, bellissimo costa sui 17 euro soltanto lui, per dirvi è un eyeliner automatica nera waterproof, quindi tutto questo a 35 euro fate un pochettino i calcoli, vedete che comunque è un set che vale molto di più sugli 80 euro, se non ho sbaglio e lo prendete solamente a 35 euro ovviamente è un set per una sola persona ovviamente è un set per un pochettino